Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Santini e messaggi elettorali, critiche e polemiche, la campagna elettorale ad Ariano per ore tutta sui social. Comincia qualche timido porta a porta. Tantissimi candidati, solo per Domenico Gambacorta, 96 su 6 liste. Sotto accusa, tra le altre cose, la posizione di rappresentanti di associazioni, scesi in campo a supporto del sindaco uscente, accusati di utilizzare la popolarità ottenuta attraverso l'attività associazionistica per ottenere consensi. E domani, aperitivo beneaugurante di candidati e sostenitori, mentre la presentazione ufficiale si terrà o sabato o domenica 5 presso l'auditorio, ma alle ore 18.30. Intanto, uscita pubblica per i 5 stelle, ieri la presentazione ufficiale del candidato a sindaco Mario Iorio della lista e del progetto Ariano presso la sala convegni di Palazzo degli Uffici. L'avvocato ha auspicato una campagna elettorale all'insegna della correttezza, ma non ha mancato di lanciare stoccate contro l'amministrazione uscente, accusata di aver fallito su tutta la linea, a cominciare da viabilità e parcheggi. Prima uscita a mercoledì per il candidato del centro-sinistra Enrico Franza, alle 18 presso Plazzo degli Uffici, con Maraio, Todisco e D'Amelio. La sinistra, in occasione del 1 maggio, vuole parlare di lavoro e problematiche connesse, mentre per domenica alle 18 all'auditorio emocomunale la presentazione delle liste. Il candidato della Lega, Gino Cusano, sta invece programmando una conferenza stampa per giovedì presso un noto albergo, in cui presenterà lista candidati e linee programmatiche. Non si smentisce il candidato Anselmo Lamanna della lista Ariano Va, che continua nel suo attivismo sui problemi ambientali. Ieri, ad esempio, era presente sul fiume Ufita, dove è avvenuta la moria di pesci, da noi già documentata, e promette di proseguire la battaglia per fermare la morte del fiume.